pregandolo di rimanere entro i dieci minuti canonici cercherò di buongiorno a tutti grazie molte cercherò al massimo fate segni a me di non superare i dieci minuti proprio per questo condivido alcune slide mi scuso già in partenza si vedono le slide per la sinteticità dovuta proprio alla volontà di stare nei team il mio contributo a questo cantiere è strettamente legato all'idea di un'evoluzione di un'analisi a partire da una prospettiva che è quella storica economica che si apre ad alte prospettive del cibo industriale del cibo industriale come espressione del cibo capitalistico della seconda metà del novecento e con l'idea che questo cibo industriale determini o influenzi o risenta in un processo di interazione dei cambiamenti sociali e abbia a che fare anche con le relazioni internazionali questa è una diffondersi di comportamenti e stili di vita nella società e interessi anche i rapporti fra stati aree e territori l'altra idea generale che volevo introdurre quando affronti nel mio caso nella mia nel mio paper nella mia analisi e l'idea che è possibile a partire da una visione di storia economica molto economista questo risentirà anche nel mio linguaggio lo sentirete penso l'idea che noi guardiamo la produzione il commercio a partire da questo alcuni storici alcuni li abbiamo in collegamento hanno considerato una relazione con il cambiamento sociale e strutturale della società italiana capitalistica e le relazioni internazionali io farei alcune introdurrei con alcune essenzialmente con alcune ipotesi con alcune ipotesi di analisi su cui si basa il mio lavoro e poi vi presenterei alcuni casi esemplificativi anche qua ripeto sarò velocissimo quello da qui parte il la mia ricerca è l'idea che a partì durante il boom economico durante il miracolo economico ci sia una diffusione di cibi pronti a lunga conservazione i classici cibi industriali quelli che noi oggi consideriamo molto brutti cattivi e da eliminare una diffusione di cibi pronti a lunga conservazione soprattutto nelle città io ho in mente l'italia e tra la classe impiegatizia tra la classe media quelli che gli inglesi chiamerebbero gli white collars è un prodotto industriale che viene costruito e prodotto e commerciato con un'immagine e qui entra tutto il discorso del brand tema molto interessante per il consumatore medio è un processo indotto dal modello capitalistico che si afferma eh dagli anni cinquanta di cui voi siete più esperti di me e che influenza questi cambiamenti economiche sociali questa era l'ipotesi cioè l'idea che il mangiare industriale eh tra virgolette fa parte di un nuovo stile di vita quello della classe borghese della borghesia che sta crescendo durante il miracolo economico eh che poi diventerà anche successivamente negli anni settanta ottanta tema di relazione con invece eh la classe operaia con il mondo operaio con coloro che sono invece degli skilled workers eh questo eh si collega anche all'idea di differenziarsi nell'alimentazione per affermare un'identità sociale questa è l'ipotesi un'ipotesi che si connette anche all'idea di eh con questo graduale diffondersi nelle città italiane eh di modelli di consumo di quel che abbiamo descritto prima sia legato anche al contatto alla relazione internazionale con gli americani con gli anglosassoni addirittura con una frase un po' forzata secondo me la guerra fredda i due blocchi hanno anche a diffondersi hanno anche a che fare con questi modelli di consumo americani o anglosassoni eh ricordo i punti da cui siamo eh da cui la ricerca parte eh per noi eh storici economici innanzitutto l'idea che proprio all'interno degli anni della guerra fredda degli anni cinquanta e sessanta a partire dal piano Marshall c'è un rinnovamento dei sistemi produttivi di questa food industry del sistema industriale per i cibi pronti eh con una nota eh sulla base di percorsi che in Italia erano già stati sperimentati durante gli anni trenta durante il fascismo alcune industrie alcuni casi anche che vedremo avevano eh avuto relazioni eh contatti o semplicemente imitato modelli produttivi anglosassoni in modo particolare americani siamo durante gli anni trenta nel fascismo l'altro elemento che influenza questo eh lo sviluppo del cibo industriale come un modello di vita uno stile di vita e che influenza le relazioni internazionali è l'idea anche qua sto dicendo forse una banalità ma per noi è importante l'incremento del commercio internazionale a partire dal processo di integrazione europea ma con tutto il blocco occidentale eh un altro fattore che non possiamo dimenticare è che in questo processo c'è un nuovo ruolo anche qua legato alla alla contaminazione al contatto alle relazioni tra il nel blocco occidentale dei mass media tutto questo processo di diffusione di un'immagine del cibo industriale è fatto con la stampa la tv come meglio sapete voi eh una una costruzione di un'immagine di un brand ed è legato alla diffusione dei massi media occidentali l'idea di un cibo industriale confezionato adatto alla vita della classe media qualche storico economico io lo cito nel testo che è stato caricato ha parlato di un processo di unificazione gastronomica del paese ecco questa unificazione gastronomica del paese ha anche a che fare con l'appartenenza dell'italia a un modello capitalistico e a un modello di relazioni internazionali eh considerate queste ipotesi vi presento brevemente eh rimandando a eventuali questioni o approfondimenti i casi che abbiamo considerato la scelta è dovuta alla disponibilità di fonti eh noterete che sono tutti i casi eh milanesi lombardi anche qua per semplicemente una contiguità eh tra dove lavoro io come istituto di ricerca cioè il dipartimento romani della cattolica e la lombardia ma anche perché la lombardia è il motore in quel momento di questo processo i casi sono quelli della Simmental, quella della Star e poi l'industria del formaggio anche qua i tempi corrono quindi io vi darò solo alcuni flash per indicare quali sono le conclusioni o se volete i risultati di queste ipotesi. Innanzitutto la Simmental. Pietro Sada è il suo bollito di carne in scatola che è una tradizione una delle tradizioni bollito eh di carne eh della cucina italiana anche abbastanza negli anni venti e trenta è una tradizione che viene innovata perché viene messa nella scatola eh durante il fascismo è un cibo militare eh il successo sarà legato all'esperienza di Gondrand quando c'è ehm la trasvolata. Durante il boom economico questo cibo militare diventa un alimento per il consumatore moderno e dinamico. Mi scuso per la semplificazione ma è l'idea che trovate anche in quella immagine molto classica degli anni cinquanta e sessanta. Il marito a casa che lavora che mangia eh la manzottina e la famiglia eh che è invece in vacanza che mangia eh il bollito di carne in scatola. Tutto ciò come ben probabilmente eh qualcuno sa o ricorda è legato a campagne pubblicitarie, all'uso della pubblicità, addirittura alla sponsorizzazione di squadre sportive. Andrea hai ancora due minuti. Vado velocissimo. La star è la stessa cosa è sono i cibi eh li diofilizzati in scatolati, l'uso della chimica, il dato della cucina e anche il marketing. La star diventa il simbolo del mangiare della borghesia. Eh l'ultimo è l'industria del formaggio. Anche qua trovate eh alcuni classici esempi eh io sottolineo alcuni aspetti. Innanzitutto la tradizione che viene innovata eh una creatività già sviluppata negli anni trenti che viene eh trasformata in prodotti iconici con alcune sottolineature. Il prodotto industriale è igienico, è il prodotto della casalinga per i tempi della vita borghese occidentale ed è anche un prodotto ipercalorico. L'Italia del benessere occidentale con un con un'omologazione che voleva coniugare modernità nella forma con il gusto italiano. Tutto questo processo che è molto occidentale, italiano se volete tra virgolette capitalistico va anche all'estero. Eh sono due le esperienze quelle eh che che fa la star e fa la Galbani in Polonia e in Cecoslovacchia come vedete tra il sessantotto e il settantatré. Io volevo solo sottolinearvi eh alcuni ehm due punti e porre almeno tre suggestioni velocissime. Innanzitutto che nella eh questo prodotto arrivi in una società alternativa che aveva come aveva anche la diffusione del cibo industriale ma era essenziale e severo. Io ho usato questa espressione a differenza di quello rindondante lo vedete qua eh e allegro eh del della parte capitalistica. Il secondo è che arriva in paesi che sperimenteranno processi di trasformazione del sistema eh comunista molto precoci Polonia e Cecoslovacchia. Eh con tre suggestioni e ho finito. Questa ricostruzione è fatta su fonti, sulle fonti aziendali e pone alcune indicazioni. Cioè innanzitutto è l'interesse che che va anche verso gli storici contemporanei e verso anche altri studiosi di relazioni internazionali è come si costruiscono questi rapporti. Le fonti aziendali non lo dicono e deve essere un processo in continuazione. Secondo quale ruolo ha la diffusione di questi prodotti che sono prodotti conici del capitalismo eh nell'immaginario collettivo dell'est. Questo è un tema molto interessante e aperto. Terzo elemento che penso i miei colleghi riprenderanno come anche le altre due suggestioni sicuramente è che c'è anche un commercio non ufficiale. Passare i prodotti oltre cortina. Questi prodotti per esempio la mozzarella Santa Lucia eh che è un trasferimento di beni. Come oggi i nostri immigrati tramite furgoncini trasferiscono beni dall'Italia all'est Europa già allora ci sono questi flussi eh dalle dall'Italia verso l'est Europa. Penso io ho sintetizzato e ho finito. Mi scuso per la brevità e forse per l'eccesso di sintesi. Sarà un problema di tutti quindi ci scusiamo una volta per per tutte le relazioni. Passo immediatamente la parola al professor Magagnoli. Prego andiamo avanti senza indugio. Grazie. Buongiorno a tutti intanto. Se Andrea può togliere la condivisione così. Perfetto. Provo a condividere il mio schermo. Ecco qua. Dovreste vedere la mia presentazione. La vedete? Sì. Perfetto. Sì. Ma molto semplicemente io sarò ancora più più sintetico e mi scuso di di Andrea Locatelli nel senso che vorrei cercare semplicemente di introdurre alcune riflessioni eh diciamo così generali alcune risposte se sono in grado di di farlo eh a una un quesito diciamo così che sottende probabilmente tutto questo panel e e tante altre relazioni. Cioè come fa? Come diavolo fa eh l'Italia? Paese che noi sappiamo abbastanza dopo la seconda guerra mondiale ha arretrato con un sistema agricolo non del tutto adeguato con un sistema industriale che sta progressivamente crescendo per conquistare però nell'arco di un trentennio circa la scena anche dell'immaginario punto del consumo eh all'estero. Eh qua si parla soprattutto i miei colleghi parlano soprattutto di di mercato dell'est ma insomma Made in Italy riesce negli anni settanta e ottanta in particolare a conquistare il cuore di tanti consumatori non solamente eh ad est. Questa è la domanda di fondo di tutta la mia riflessione evidentemente che parte eh da un diciamo così da un da un da un tentativo ecco di 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 tenere insieme una serie di 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 lavori fatti nel nell'ultimo decennio intorno appunto alla eh alla ricostruzione alla memoria della fame a come come dire la leva anche dell'innovazione comunicativa non solamente della dell'innovazione diciamo così produttiva di prodotto eccetera ecco come la l'innovazione comunicativa riesca come dire a dare un contributo non indifferente evidentemente al al successo dei Made in Italy e qua chiaramente certo la carrellata che ho fatto appunto nel paper che comunque trovate sul sito della Cisco evidentemente una 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 come dire una parabola assolutamente eh significativa di ciò che accade in Italia appunto dopo dopo la seconda guerra mondiale da un radicato eh profondo eh diciamo così immaginario di una fame veramente molto molto recente passando attraverso le cose che diceva ora Andrea al mito della modernità tutto quello che è nuovo tutto quello che è industrial food per definizione è bello tutto quello che invece è eh traditional food per definizione è bruttissimo è superato è vecchio fa parte appunto di una di una di una di un paniere di comportamenti non solo di prodotti che vanno assolutamente superati fino appunto poi alla secondo me a uno dei dei turning point più importanti che sono gli anni settanta da tanti punti di vista non solamente dal punto di vista delle nostre riflessioni cioè con la riscoperta di una tradizione e con della della tradizione quello che in francese è il terroir eh fino appunto a una pubblicità che eh riesce eh come dire a utilizzare questi strumenti e queste questi richiami appunto alla tradizione in maniera molto efficace quindi con tutte le innovazioni che riguardano eh l'industria che riguardano le professioni anche del foodio spero che ci sia tempo magari di discutere su questo cioè di come ci sia un'innovazione profonda anche appunto nell'ambito delle professioni del food sino appunto all'innovazione del del marketing quando dicevo appunto la la grande innovazione del cibo industriale se voi guardate la pavese negli anni sessanta eh dopo quindici anni dalla fine della guerra con appunto ancora molti nella nella nell'immaginario e nella testa il pane nero della mafai ti propongono appunto il cracker come un'alternativa assolutamente necessaria evidentemente eh da sostituirsi appunto al al tradizionale pane per poi passare vabbè una serie di immagini che riguardano evidentemente l'evoluzione anche del delle forme dell'eating out e quindi il picnic fuori fuori porta e i cibi industriali che diventano un complemento fondamentale necessario appunto del picnic ma che cosa sia l'Italia dopo la seconda guerra mondiale lo sappiamo tutti lo sapete tutti molto molto meglio di me eh quindi sorvolo evidentemente su 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 tutta una carrellata generale su questi temi semplicemente credo che però vada rimarcato per il caso italiano ecco una sorta di originalità appunto in ambito a mio avviso comunicativo cioè eh l'esperienza di carosello come contenitore come vetrina appunto che che propone il lato edibile del boom economico e non solamente il lato edibile ma insomma eh quella 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 quelle cose che diceva Andrea appunto di questa proposta di questo modello di famiglia borghese urbana impiegatizia con un buon reddito che si può permettere evidentemente i nuovi consumi della della nuova Italia industriale la nuova Italia che sta crescendo e che diventa evidentemente un modello emulativo appunto per sostenere appunto la il consumo e ciò non toglie che l'Italia appunto per appunto fino agli anni fine cinquanta inizio sessanta eh rivelia ancora da molti punti di vista una so una serie di arretratezze non non marginali eh in termini di infrastrutture in termini appunto anche di capacità produttiva in termini di con tutte le cose che poi diranno appunto Giulio Emanuele appunto su una ripresa di esportazione verso verso l'estero sicuramente molto importante e molto significative come economico italiano prima fase forse no ma nella seconda fase eh export led quindi è trainato dalle esportazioni certamente molto importanti quelle appunto di beni no elettrodomestici eccetera eccetera ma sicuramente anche il food ha un suo crescente ruolo eh di importanza ecco mi soffermerei un minuto di più su questa su questo snodo appunto cioè di come a un certo punto la tradizione diventi ed entri come una 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 un tool uno strumento che fluidifica evidentemente la diciamo così l'approccio al consumo della dell'Italia appunto del del boom ma anche del post boom quindi negli anni settanta metà settanta inizio inizio ottanta con la comparsa sulla scena evidentemente della cultura della tradizione su queste cose ci sto lavorando da qualche anno insomma nel cercare di definire perché in che modo appunto questa cultura della tradizione si affermi e continui dopo cinquant'anni ancora essere un elemento ogni giorno con i miei studenti a cui insegno queste cose cerco di capire come mai i ventenni di oggi siano ancora fortemente attratti da quella cultura della tradizione che invece ha tratto noi molti anni fa ha cominciato tra noi molti anni fa e e quindi con tutta la bella la 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 questioni che riguardano appunto la 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 comparsa appunto delle denominazioni di origine i prodotti tipici la tipicità eccetera 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 con tutte le cose di invenzione della tradizione che sappiamo molto bene ma su cui eventualmente possiamo possiamo riflettere e come questa cosa qui sia diventata un complemento fondamentale importante per sostenere il made in italy cioè made in italy è stato percepito all'inizio continua a essere percepito anche come un richiamo a quelli che sono i tre tools tre ancoraggi a mio avviso principali del del richiamo italico alla tradizione cioè rinascimento medioevo antichità tutto sommato questo è la triade insomma intorno cui anche i pubblicitari hanno hanno lavorato ardentemente e pesantemente non c'è tempo di parlare appunto di come tutto ciò entri anche nel dibattito politico di recente pubblicato una cosa appunto sulla sulla sul dibattito parlamentare sulla sulla nascita del ministero appunto del turismo nel 59 anche lì si riflettono temi di questo tipo cioè la classe politica è ben consapevole delle potenzialità del paese nell'offrire appunto questi miti questi richiami mitologici al turista straniero ecco probabilmente bisognerà riflettere anche su quanto il turismo straniero abbia agevolato sostenuto appunto la una diffusione di una bella immagine dell'italia in termini di ben vivere di ben mangiare di ben bere di ben stare tutto quello che è bene appunto che poi troviamo già paradossalmente nelle pagine di uno secondo me degli intellettuali più pervasivi più più interessanti del dopoguerra che appunto guido piovene su viaggio in italia primi anni 50 questa trasmissione radiofonica due anni circa che sicuramente ecco proietta già l'immagine di un paese ancora certo in difficoltà ancora nelle ambasci di una ricostruzione difficile ma già tra le righe di piovene si leggono le potenzialità turistiche per made in italy bisogna leggerlo oggi evidentemente forse all'epoca era più complicato fino ad arrivare evidentemente alle prove generali negli anni 70 e qua veramente vado vado a concludere in 30 secondi le prove generali anche così di quelle che possiamo chiamare la media medievalizzazione del marketing qua a sinistra vedete il primo spot del parmigiano reggiano nel 1973 per carosello in cui si vengono a definire i contorni di un marketing che comincia a utilizzare il richiamo al medioevo comunque al passato a rinascimento comunque si 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 smarca completamente dalla modernità degli anni precedenti per imporre invece un un richiamo forte simbolico in cui chiaramente si c'è un blend per cui vedete come sono vestiti usano macchine di lusso i protagonisti però comunque il richiamo è arnoldo foa vestito da castellano a torre chiara qua a parma castello che ospita e riceve questa giovane coppia ecco qua probabilmente è il punto di partenza di una storia che vede chiaramente la barilla col molino bianco mille altri attori della comunicazione della produzione che intercettano forse questo bisogno che ne so io ho sempre pensato che fosse una paura della black box che la globalizzazione stava portando dappertutto e quindi come una sorta di di precoce richiamo al glocal che poi dopo si sarebbe affermato nel in seguito ho finito un minuto grazie no no ho finito ottimo grazie stefano anche per essere rimasto nei tempi e adesso tocca a me e quindi vi faccio immediatamente vedere le mie cose condivido lo schermo se lo vedete ecco siamo a posto con questo mi confermate si vede si vede perfettamente vado avanti ecco e qui mi occupo un po della del contesto e dopo il professor bachero continuerà cosa c'entra tutto questo con la guerra fredda c'entra perché l'italia si colloca molto bene dentro il il panorama della guerra fredda e e quindi anche dentro le le dinamiche geopolitiche generali ora due premesse la guerra fredda all'epoca la guerra fredda di eh Churchill della cortina di ferro è quella sinistra l'idea di un'Europa manicheamente divisa in due da una parte i rossi dall'altra parte i i blu e basta l'immagine attuale è molto più sfumata è quella destra che è l'immagine di ubitidia tanto per intenderci c'è una guerra fredda che ha sì dei confini molto ben definiti ma non sono la cortina di ferro ci sono aree grigie c'è un insomma una grossa area indistinta che è la jugoslavia che vedremo perché è importante tutto è molto mosso prima premessa seconda premessa dentro questo movimento della guerra fredda il commercio internazionale ha un'enorme importanza non soltanto nell'Europa dell'Ovest che ha dopo l'unico calo nell'intera storia del capitalismo nel periodo tra le due guerre ha un aumento grossissimo dell'8% all'anno del commercio internazionale tra il 50 e il 73 ebbene questo che per noi è la golden age la grande esplosione del commercio internazionale è comunque meno rispetto all'esplosione commerciale che ha l'Europa dell'est che è quasi del 10% all'anno in media chiaro partivano da un livello molto più basso però è comunque significativo l'Italia la fa da padrone l'Italia tra il 50 e il 73 ha un aumento del export che è praticamente di 15 volte tanto per darvi un paragone l'Inghilterra soltanto tre volte anche la Germania cresce proporzionalmente meno rispetto a quanto fa l'Italia in questo periodo un vero boom eccolo qua le importazioni ed esportazioni alimentari italiane sono queste l'immagine ci dice due cose primo inizio lento negli anni 40 bisogna recuperare tutta la fame della guerra e quindi è qualcosa che va nella seconda metà degli anni 50 quando è finito il piano Marshall quando il boom economico sta già andando quindi le due cose ecco sviluppo industriale e import export alimentare sono scollegate l'altra cosa che invece ci dice è un grande sviluppo negli anni 60 e 70 è un grande sviluppo che tiene abbastanza nelle importazioni cala nelle esportazioni soprattutto perché aumentano moltissimo le esportazioni industriali che di solito sono quelle che attirano maggiore attenzione questo non vuol dire che però le esportazioni del primario siano insignificanti vedremo per quali termini prima di tutto cosa esporta l'Italia in questo periodo soprattutto prodotti primari frutta e verdura generi alimentari e materie prime cioè praticamente un'esportazione debole quella dell'Italia è un'esportazione non industria non ancora industrializzata non ancora raffinata i prodotti di più complessa lavorazione ecco vengono esportati iniziano ad essere esportati in maniera significativa comincia a vedersi un po la percentuale a partire degli anni 70 non è esattamente il periodo di cui ci occupiamo il periodo di cui ci occupiamo è ancora il periodo dell'esportazione di prodotti primari frutta e verdura fino alla fine degli anni 50 addirittura l'Italia riesce ad esportare più di quanto non importi dopo le due curve si disallineo però dobbiamo pensare che è comunque importante perché nella bilancia commerciale italiana del periodo questo questa piccola differenza tra import e export è comunque infinitamente più sopportabile rispetto alla deficit enorme che c'è per le materie prime e anche per i prodotti industriali ricordo che la bilancia finanziaria in italiano viene tenuta in bilico dagli emigranti dal turismo a tutta una serie di altre cose perché import e export in Italia sono disastrate in questo da questo particolare punto di vista l'elimentare è importante perché non è tanto in deficit addirittura negli anni 50 c'è un avanzo e importiamo soprattutto dall'unione sovietica esportiamo in unione sovietica ma soprattutto in Jugoslavia qui in corso una ricerca specifica però qui rientra anche uno dei discorsi a cui si è fatto accenno prima evidentemente la Jugoslavia funziona come centro di redistribuzione è quell'area che abbiamo visto prima è un po' incerta quel varco dentro la cortina di ferro e in effetti la Jugoslavia funziona come centro di redistribuzione non soltanto dei prodotti italiani ma in generale è quasi un piccolo spiraglio che l'occidente ha per andare verso l'est oppure ancora meglio i paesi consumatori dell'est possono interagire con l'occidente attraverso la Jugoslavia i prodotti sono quelli che abbiamo visto quindi non c'è grande differenza all'est in questo periodo si esporta quello che sappiamo agrumi, frutta, riso, frutta fresca e praticamente quasi l'esportazione cavuriana l'Italia è il giardino dell'Europa dell'est e esporta prodotti fondamentalmente primari questo è un piccolo riassunto l'unica cosa che vi dico di nuovo è che i terms of trade italiani nel periodo migliorano cioè tendenzialmente i nostri prodotti mantengono un valore relativamente alto mentre invece i prodotti che importiamo dall'est diventano meno cari e quindi il vantaggio italiano in termini di terms of trade non sto a spiegarvelo però aumenta in termini relativi e non in termini assoluti questa è la parte italiana dall'altra parte cosa succede? oltre alla cortina di ferro esattamente cosa succede? vi faccio tre esempi Bulgaria, Cecoslovacchia e Unione Sovietica dagli anni 50 inizia una programmazione tipicamente staliniana e con l'andare del tempo i consumi alimentari vengono proprio reindirizzati essenzialmente verso una politica dei consumi che tiene molto conto dell'eredità degli anni 30 in pratica la volontà di combattere la fame negli anni 30 il grande sviluppo è soprattutto in carne, uova e latticini tanto per dirvene una praticamente nella Germania Est vengono consumati 2 milioni di uova nel 1955 3 milioni di uova nel 1960 e quindi la collettivizzazione dell'agricoltura è diretta soprattutto a produzioni di massa se vedete le lighe più sotto sono quelle che interessano a noi frutta, verdura, prodotti freschi vengono completamente trascurati il diagramma sopra praticamente sono le quantità il diagramma sotto sono le proporzioni in tutti i casi fatto 100 il 1960 per avere poi una proporzione e quindi non soltanto i consumi ma anche gli sviluppi della produzione privilegiano soprattutto le calorie di origine animale fondamentalmente e invece privilegiano addirittura calano i consumi di prodotti e di verdura freschi questo vuol dire che per l'Italia rimane lo spazio questo spiega anche i terms of trade precedenti l'Est Europa e l'Unione Sovietica rimane quasi una specie di spazio commerciale privilegiato per le esportazioni italiane sono relativamente meno costose rispetto a quelle francesi sono più democratiche perché la cucina italiana è una cucina insomma più popolare rispetto a quella francese e sono anche per l'Est Europa anche nuove, importanti, significative faccio sempre lo stesso esempio il pomodoro arriva nell'Europa centrale e orientale dopo la prima guerra mondiale e comincia a svilupparsi in questo periodo la parola per indicare pomodoro nelle lingue slave è paradisnik e il pomodoro viene chiamato paradisicum anche in ungherese che non è una lingua indoeuropea cioè per loro il pomodoro è frutto del paradiso ancora adesso e questo arriva attraverso l'Italia nel periodo fino al secondo step inizia il secondo step tutto questo ha anche un valore politico generale e gli Stati Uniti se ne accorgono abbastanza presto con appunto una serie di rapporti già a partire dalla fine degli anni 50 che diventano sistematici negli anni 60 si accorgono di alcune cose e il sistema diciamo staliniano ormai collettivista dell'Est riempie la pancia ma non soddisfa né dal punto di vista proprio nutrizionale né dal punto di vista del consumo l'Est Europa sviluppa un suo sistema alimentare basato sulla quantità mentre l'Ovest noi sviluppiamo un sistema di consumo basato sulla varietà quello che abbiamo visto prima ed è una cosa che c'entra molto sia dal punto di vista quantitativo questo perché diciamo appunto ci sono abbastanza cose da mangiare ma questo non soddisfa sia dal punto di vista politico generale questa è sempre la Germania Est la collettivizzazione dell'agricoltura presso che integrale negli anni 60 rende il sistema molto rigido e quindi molto poco capace di rispondere all'evoluzione della domanda dei consumatori e tutto questo dagli Stati Uniti viene percepito immediatamente come un talone racchile gli Stati Uniti avevano già un loro programma da 1954 Food for Peace per gli aiuti alimentari in funzione anticomunista per nell'America Latina in Africa praticamente per gestire il processo di decolonizzazione e non vengono inseriti io lo so adesso finisco non vengono inseriti i paesi dell'est però nel 1966 quella politica viene rinnovata con questo atto per promuovere il commercio internazionale per combattere la fame se vedete l'ultima frase e per altre proposte and for other purposes sappiamo noi quali quindi nel 1960 immediatamente la politica diciamo la food policy americana assume un aspetto politico generale l'Italia rientra perché ha questi canali privilegiati nel gioco della guerra fredda il zero sum game della guerra fredda in pratica un indebolimento dell'avversario corrisponde ad un vantaggio per te e quindi le tre cose si saldano la capacità italiana di esportare la dipendenza dell'est europeo da questo tipo di prodotti che l'Italia esporta il valore politico di questa esportazione e quindi anche il vantaggio politico che l'Italia dentro il campo occidentale nel rappresentare diciamo questo canale che è economicamente conveniente ma anche politicamente strategico perché rappresenta poi un passaggio di quella food for the world o guerra fredda del cibo che abbiamo visto prima già citata dal professor Locatelli e che diventa uno degli obiettivi poi di questa nostra ricerca da qui in avanti la bibliografia dove insomma vedete anche le cose che vi ho citato il dipartimento di stato negli anni 60 sviluppa anche un suo specifico ufficio per la food per la economic diplomacy che ha un ufficio sul food e tutto questo diciamo è il primo capitolo di questa storia che stiamo elaborando spero scrivendo e che nei prossimi anni speriamo di poter condividere mesi ecco non è speriamo di poter condividere con voi grazie ho finito ok quindi do direttamente tra l'altro anche la parola al professor Vacchero che proseguirà ok si sente? si si sente ok vediamo si vede? ancora no va bene arriveranno eccoci vai libero si vedono? si ok ho soltanto due slide così guadagniamo tempo ok che in parte riprendono quanto tu avevi già detto Giulio chiaramente io ringrazio gli organizzatori per questa possibilità di incontro colloquio discussione trasversale e cioè per rimanere nei tempi io parto da una da una riflessione di carattere generale che in parte si allaccia a quanto abbiamo gli ha sentito allora dal mio punto di vista cioè la mia presenza qui è in parte il risultato di una ricerca in corso sulle storie sulla nascita e l'evoluzione e le trasformazioni dell'industria enologica italiana che sto realizzando insieme a Luciano Mafi e a Paolo Tedeschi è il risultato di una lettura puntuale del giornale dell'unione vitivinicola italiana il corriere vinicolo questo è un giornale che nasce nel ventotto e copre fino a oggi la storia quasi contemporanea è un giornale di settore ma molto interessante perché consente di cogliere le trasformazioni e l'inquietudine di un settore che oggi è chiave dell'agroalimentare italiano come il settore esportazione vini bene leggendo questo giornale che ha una scadenza settimanale quindi una lettura molto molto lenta però risulta evidente che gli anni cinquanta gli anni cinquanta e i primi anni sessanta sono nel caso italiano un vero e proprio cantiere sono un vero proprio cantiere per capire in che modo una società tradizionale molto ancora molto rurale molto legata all'agricoltura che usciva da poco da una guerra devastante con enorme sacche di povertà si pensa alla inchiesta sulla miseria del cinquantadue bene come questo paese che sta vivendo una trasformazione economica in che modo in questo paese una rivoluzione dei consumi può impattare cioè si crea una specie di domanda continua da parte dei operatori economici e quindi anche dal mondo della politica di provare a capire come le due cose possono andare insieme cioè sviluppo economico ma anche trasformazione delle abitudini sociali dei consumi le due cose attirano molto l'attenzione e non a caso sono anni di numerose inchieste proprio sui consumi si cerca di capire l'Italia la società italiana diventa una specie di laboratorio cioè vediamo come una società passa da un forte livello di arretratezza a un livello di modernizzazione anche nei consumi in poco tempo questo fa dell'Italia anche un modello per secondo me le società e i paesi socialisti anche i paesi socialisti dagli anni 60 dagli anni 50 ma soprattutto gli anni 60 in poi si trovano alle presse con una trasformazione della società culturale ma anche economica dei consumi delle abitudini e allora l'Italia diventa il modello occidentale più vicino cioè diventa il partner non soltanto commerciale come abbiamo visto delle statistiche e come stiamo vedendo qui in questo grafico molto sintetico che fa capire l'andamento dei rapporti commerciali con l'Unione Sovietica e con l'Europa dell'Est in generale come proprio a partire dagli anni 60 la società e il sistema economico italiano diventa una specie di modello anche per le società socialiste cioè se l'Italia è riuscita riesce a modernizzare una società che parte da livelli economici molto molto arretrati anche noi ce la dobbiamo fare credo che questa sia una delle domande di fondo da parte dei politici oltre il muro di Berlino per guardare con interesse il modello italiano cioè per la società sovietica la società socialista il modello francese il modello tedesco e il modello inglese non servono sono troppo distante sono troppo lontane quindi il più vicino è l'Italia e la vicinanza di un progresso economico nel caso italiano frutto del capitalismo nel caso sovietico e in generale di tutti i paesi satelliti frutto del socialismo credo che questi siano i due piani diciamo ideologici culturale della dialettica perciò mi fa piacere richiamare questa idea di pensare all'Italia come un laboratorio come un modello di sviluppo economico sociale anche per le società per i paesi dell'Europa dell'ES questa è la prima questione controlla il tempo Giulio grazie poi c'è un'altra esigenza un po' più interna cioè il sistema economico italiano deve da una parte soddisfare l'aumento della domanda di questa nuova società italiana che si sta industrializzando e sta scoprendo come diceva Stefano i prodotti industriali il cibo preparato non dimentichiamo che finalmente gli italiani cominciano a conoscere il freddo e il gas cioè c'è una rivoluzione in cucina perché tutto questo è il risultato di una piccola rivoluzione non dico degli elettrodomestici ma dico del rifornimento dell'energia elettrica e del rifornimento del gas e non a caso le pubblicità più belle di questo periodo sono quelle dove si cerca di convincere alle massaglie e alle famiglie dei vantaggi delle stufe elettriche delle stufe a gas ma anche dei frigoriferi e di poter cominciare a cucinare lascio da parte la lavatrice per il momento quindi c'è una rivoluzione di fatto in cucina che è l'espressione o il punto di partenza di una rivoluzione di consumi interni su questo è innegabile poi però il sistema economico il sistema produttivo italiano è alla ricerca di nuovi spazi commerciali cioè ha bisogno di nuovi spazi commerciali tradizionalmente i grandi mercati di sbocco del sistema produttivo italiano soprattutto delle merci che si potevano esportare erano la Francia erano in Gran Bretagna e erano la Germania lascio da parte gli Stati Uniti bene il mondo dell'Europa rappresenta per la prima volta a partire dal quarantacinto in poi un spazio nuovo un spazio bergi un spazio nuovo da conquistare chi lo conquista lo conquistano i francesi che senza dubbio avevano una maggiore solidità commerciale di intraprendenza rispetto agli italiani sì ma i prodotti francesi saranno belli ma sono cari e sono costosi non sono alla portata del consumo sovietico invece l'Italia in quel momento degli anni cinquanta con quelle aperture con queste società indipendentemente di dove si colochino da una parte o dall'altra della divisione della guerra fredda bene l'Italia riesce a penetrare in questi mercati nuovi che questo è un aspetto fondamentale nuovi perché l'Italia garantisce prodotti belli ben fatti e tutto sommato a prezzi contenuti questo è la grande questo è il risultato di un processo di trasformazione di modernizzazione di tenere bassi costi da parte del settore manifatturiero italiano quindi per l'Italia degli anni cinquanta che si trova da una parte alle prese con la necessità di soddisfare le tensioni provenienti dal mercato interno che si sta trasformando dall'altra parte però necessita questo sistema produttivo di trovare nuovi sbocchi commerciali ecco il ruolo dei paesi socialisti vedete l'andamento quali sono alcuni di questi prodotti non c'è dubbio che per me è stata una sorpresa insomma non lo conoscevo mi aspettavo di trovare altri dati invece il primo grande prodotto di massa che gli italiani che il sistema manifatturiero il sistema economico italiano riesce a portare come immagine del paese italiano del food dell'arredamento e della moda sono le scarpe cioè questi dati lo dicono chiaramente la possibilità di esportare più di quasi quasi due milioni di paia di scarpe nell'Unione Sovietica nel 1970 soprattutto sono scarpe da donna stivali che ho chiesto a qualche collega che conosce bene il russo e che mi ha aiutato a leggere un po' di materiale sembra che gli stivali con il tacco di donna proveniente d'Italia diventasse una vera e propria icona bene non è non è tanto io mi avvio quasi alla conclusione perché mi manca poco non è tanto l'agroalimentare così come noi oggi lo intendiamo a essere diciamo così la bandiera il portabandiera l'alfiere del sistema dell'export italiano invece è la manifattura in particolare la manifattura delle scarpe perché l'agroalimentare ho messo un po' le arance ma le arance era una vecchia tradizione perché perché il sistema agroalimentare italiano ancora negli anni 50 è alle prese con tutta una serie di strozzature che ralentano molto la modernizzazione due minuti no no anche uno grazie e ralentano anche la modernizzazione dal punto di vista commerciale perciò è molto interessante leggere il corriere vinicolo perché il settore del vino dimostra o dicono in continuazione che le potenzialità non sono colte al cento per cento perché il sistema italiano ha troppe arretratezze dal punto di vista del pagamento internazionale della commercializzazione insomma il sistema manufatturiero italiano nuovo riesce a inserirsi il sistema agroalimentare italiano ancora molto legato all'agricoltura è stenta a compiere un passo in avanti ad accelerare il processo poi nel caso del vino che è un po' quello che conosco un po' di più l'Italia deve confrontarsi con il vino ungherese il vino jugoslavo e perfino il russo lo champagne russo sovietico che cominciano a produrre quindi chiudo chiudo dicendo questi due processi uno di veloce diciamo così penetrazione delle manifatture nuove come le scarpe dall'altra parte le manifatture più legate all'agroalimentare quindi alla retroterra agricolo italiano deve ancora compiere un'evoluzione molto lenta sono gli anni della nascita del mercato comune dell'Unione Europea della PAC delle denominazioni d'origine su questo il sistema economico italiano stenta e non coglie a pieno o a pieno le possibilità di questa società dei paesi socialista che provano un po' ad avvicinarsi al modello italiano dal punto di vista dei consumi ma ripeto in maniera molto schematica grazie per l'attenzione e poi spazio alle domande e altre considerazioni grazie a tutti grazie Giulio grazie Manuel ottimo siamo ancora in tempo rapidamente adesso la parola al professor Varini io vi risparmio lucidi così risparmio tempo e non risparmio anche citazioni o riferimento ai colleghi precedenti quindi anche questo tagleremo tempo allora il mio intervento il mio intervento intende è un intervento che dia un approccio di storico di impresa e storico economico che si è interrogato soprattutto sulla internazionalizzazione delle imprese italiane su come le imprese italiane si siano internazionalizzate dalla fine dell'ottocento in poi soprattutto per questo aspetto è stato a lungo traspurato dalla storia italiana o meglio nella comparazione con il modello tipicamente americano l'Italia figurava sempre agli ultimi posti o comunque marginale giudizi sempre negativi eccetera eccetera solo ultimamente si è ripensato alla modalità fatto che il modello italiano di internazionalizzazione fosse diverso e quindi questa diversità andasse rivalutata per una comparazione comparazione più interessante più adeguata e in particolare studiando questi mi interessava anche andare all'origine di una presenza delle imprese italiane in quello che diventerà l'estero europeo cioè occupandomi se dall'inizio dell'otto novecento e nei decenni successivi in quell'area che diciamo era prima della seconda guerra mondiale aperta anche ai commerci italiani e mi interessava soprattutto andare a verificare se questa sorta di continuità una presenza prima della seconda guerra mondiale se continua anche nel secondo dopoguerra che è attraversato dalle divisioni e dalle dalle cortine di ferro che ne impedivano almeno apparentemente la continuità nella commercializzazione tanto più che anche con studiosi diciamo dell'ex est europeo anche loro si sono incamminati nello studio di quella che è la shadow economy questa economia ombra che comunque era parallela a quella economia ufficiale dettata più dagli scambi diplomatici che da una libera concorrenza nei commerci internazionali e quindi anche un dialogo con questi colleghi per ricostruire questi legami di lunga durata che hanno riguardato soprattutto alcuni prodotti alcuni prodotti di cui ci parlava prima Stefano di quei prodotti che hanno avuto soprattutto successo nell'immaginario che hanno costruito prima un immaginario e poi un desiderio del consumo ai quali seguiva poi la materialità del consumo effettivo ecco questi consumi sicuramente sono stati oggetto di importanti successi di imprese italiane che fin dalle origini si erano proiettate immediatamente verso l'estero anche perché il mercato italiano era troppo piccolo per poter consentire a queste imprese di assorgere a dimensioni minime ottimali competitive con quelle delle imprese del resto europeo quindi ecco mi sono interessato da prima studiando alcune tipologie di immaginario quali la diffusione dei riti l'aperitivo i consumi della società di consumi i miei studi si sono indirizzati appunto su alcune imprese tipiche iconiche direi da questo punto di vista qui ne presento ogni accenno a due la Martinerossi e la Campari ce ne sarebbero altre che hanno ubicazione ovviamente nel mercato del consumo per eccellenza a livello italiano non entro non entro che è Milano che è Milano che è la prima che vive in maniera paracomparabile alle altre capitali europee le stesse dinamiche dell'immaginario dell'aperitivo Milano è nell'immaginario diciamo ormai mondiale la sede dell'aperitivo per eccellenza con anche momenti di grande successo continuate nel corso del tempo basta citare all'expo e basta e credo che sia sufficiente ecco i due casi la Martinerossi non è proprio milanese la Martinerossi ma è la seconda capitale economica dell'Italia in qualche modo Torino ma certo anche qui è un'espressione di consumi interessanti brevi accenni alla Martinerossi la Martinerossi nasce nel 1847 nasce a seguito di alcuni impegni di alcune famiglie benestanti torinese interessati a questo mercato nascente da prima nascono la Martini poi la famiglia Sola e infine arriva la famiglia Rossi nel 1879 diciamo nasce la Martinerossi la prima esperienza l'aspetto decisivo che insegna il successo plurisecolare è quello dell'immediata proiezione internazionale come le altre grandi marti italiane segue le comunità di italiani all'estero tanto è vero che la prima grande casa filiale la prima filiale produttiva all'estero della Martinerossi è a Buenos Aires e lo comprendiamo facilmente perché seguono altre capità altre filiali importanti soprattutto nei mercati e nei porti penso a Marsiglia eccetera segue New York Hong Kong eccetera però nella sequela nell'elenco di tutte le sedi o il luogo in cui vi sono delle corrispondenti nelle diverse fattispecie dalla filiale all'impianto produttivo possiamo vedere come già in Austria nel 1872 l'Austria è l'apertura al mercato austro-ungarico c'è la Bohemia nel 1877 nella Russia nel 1878 la Polonia nel 1884 la Bulgaria nel 1888 sono tutte presenze diciamo che si consolidano nel tempo di avamposti della Martini in questi mercati in particolare Mosca che diventa da prima una filiale poi un deposito con una rete di agenti che si preoccupa di vendere questi prodotti l'aspetto più interessante riguardando la storia della Martini è una storia anche di prove ed errori il primo tentativo di esportare è nel mercato più ricco da allora cioè la Gran Bretagna gli alcolizzati inglesi non apprezzano però il Martini nel Vermouth perché è troppo dolce eccetera allora immediatamente la Martini si reindirizza verso dove in Europa soprattutto nell'Europa orientale cominciando da Vienna per espandersi a Budapest Bucharest Praga Varsavia Sentretto Bugo Mosca eccetera i invi di bottiglie confezionate addirittura con scritte in cirillico a Mosca si risalgono al 1878 ancora di più la Martini sviluppa il suo commercio con la Russia insieme ad altri marchi importanti del food italiano la Cirio sono gli stessi agenti che si preoccupano di distribuire i prodotti ma continua nel tempo tant'è vero che la Martini è abbastanza fiera di avere il premio alla prima esposizione sovietica dell'agricoltura artigianato industria del 1923 a testimonianza che anche dopo la rivoluzione la Martini mantiene una sua presenza anche nello stato del comunismo per eccellenza quindi il rito dell'aperitivo continua anche dopo ancora più interessante come negli altri paesi che diventeranno poi al di là della cortina di ferra come Varsavia Praga e Tallin abbiamo campagne pubblicitarie ancora fino alla fine degli anni 30 quindi ecco fino agli anni 30 si spinge a questa costruzione del mito e del prodotto eccetera l'aspetto sicuramente più interessante è questa quindi presenza prima della cortina di ferro di un radicamento di questi marchi di questi riti e questi consumi ben al di là dei confini l'altro aspetto è quello della Campari sulla Campari è abbastanza rapido soprattutto si nota nel guardare le esportazioni della Campari come vi sia una caduta nei primi anni 20 e dalle carte questa caduta delle esportazioni è regata soprattutto all'avvento della rivoluzione russa e quindi sicuramente questi avvenimenti hanno inciso sulla presenza della Campari in questi ambiti però della Campari è più interessante invece forse non abbiamo dati precisi sulle esportazioni sulla presenza in questi ambiti ma è più presente forse quell'aspetto della costruzione del prodotto e del mito di cui abbiamo parlato prima infatti è proprio la sensibilità di Davide Campari Davide Campari è il fautore del successo della Campari è quello che proietterà la Campari fuori dalla galleria di Milano trasformandolo da un caffè destinato ai consumi della borghesia benestante milanese a un prodotto destinato a tutti i luoghi di consumo a livello mondiale ecco che Davide Campari ha questa immediata intuizione cioè legare il suo prodotto all'arte lui in tutti i modi cerca di come dire convincere gli artisti a consumare Campari e in questa sua corrispondenza con gli artisti vi è sicuramente anche una forte sensibilità ai paesi dell'est europeo comincerei col primo grande successo a Mosca è quello con Lina Cavalieri Lina Cavalieri è insomma l'icona della bellezza europea dell'otto novecento questa bellezza a cui Davide Campari si lega molto sia sentimentalmente che come sponsor perché Lina Cavalieri è quella che venderà i terreni a Campari per costruire la sede a Parigi eccetera eccetera c'è un legame quindi commerciale di business con questa cantante di nome successo ma c'è anche un legame sentimentale ed è interessante come Lina Cavalieri nel 1899 sposò a Pietroburgo il principe Aleksandr Vladimirovich Bartan Barjanticki scusate il nome ma troppe troppe consonanti in questi nomi il matrimonio con questo principe fu annullato pochi anni dopo con l'intervento dello zan Nicola II che non riteneva che nella casa reale ci fosse ci dovesse essere spazio per una cantante Valerio Tempo un grande scandalo ma certo allo scandalo fu accompagnato da anche campagne pubblicitarie che spingevano nei teatri di Mosca il connubio Campari Campari Musica Campari Teatro Campari Teatro Campari Musica che ha altri segnali importanti uno dei corrispondenti a Mosca di Davide Campari era Ivo Stravinsky fino a quando Stravinsky visse in Russia Campari continuò a servirlo con abbondanti riserve o vendite di Campari e a sua volta Stravinsky diciamo con una serie di corrispondenze parlava di questi prodotti e della bontà del Campari prima di entrare in teatro del Campari come stimolo alla creatività eccetera a questi artisti si aggiunsero altri come pittori come Adolfo Weinstein Russo Frank Loskov Polacco che furono tutti viatici che consentirono a Campari di sedimentarsi e di costruire quella tradizione immaginaria appunto di cui parlava Stefano di cui hanno parlato altri Valerio la conclusione arrivo la conclusione immediatamente questi aspetti io ho tentato di poi vedere la continuità perché c'è tutta una memorialistica soprattutto di viaggiatori uomini politici passano a Cervetti dall'oro di Mosca in poi che parlano della continuità del consumo di prodotti italiani di questa rinomanza anche negli anni 50 e 60 tanto è vero che a questa corrispondenza abbiamo avuto nel convegno la settimana scorsa tenutosi a Roma dell'ICREF alcuni colleghi russi che hanno riferimenti di questi prodotti si tratta di installare un dialogo anche con loro per dare più consistenza a queste che sono chiaramente per adesso sono delle intuizioni delle suggestioni delle ipotesi che però vanno diciamo fondate su delle conoscenze della documentazione un po' più precisa grazie 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 a te chiedo scusa a tutti per la insomma cativeria ecco con la quale ho sistematicamente interrotto tutti così non ho privilegiato nessuno però lo scopo era dare agio spazio e comodità alla professoressa Cantagalli che adesso ci racconterà cosa ne pensa di noi e farà tutte le pulci possibili immaginabili a quello che abbiamo detto professoressa a lei salve buongiorno buongiorno a tutti no devo dire che le vostre relazioni le ho trovate estremamente interessanti anche perché si aprono a tante chiavi diverse chiavi di lettura piste di ricerca eccetera avete scelto un periodo storico l'avete detto tutti un periodo storico cruciale per la storia mondiale gli anni della guerra fredda quindi blocchi eccetera ma anche gli anni della creazione dei primi organismi economici internazionali in particolare il GATT nel 1948 gli anni della prima integrazione regionale e gli anni anche in cui lo si è visto nelle relazioni che hanno parlato della capacità di penetrazione dell'Italia oltre cortina anche di queste prime aperture tra i blocchi sono anche gli anni l'avete detto più volte del miracolo economico gli anni della rivoluzione dei consumi gli anni in cui anche in Italia una società l'avete detto sottolineato giustamente arretrata dal punto di vista industriale dal punto di vista anche culturale si afferma piano piano si afferma la società dei consumi allora le mie riflessioni sono alcune a partire dal miracolo economico allora il professore Locatelli ha giustamente affermato che sono anche gli anni in cui si affermano i prodotti industriali di carattere alimentare allora questo come si coniuga con la nascita del Made in Italy perché secondo me le origini del Made in Italy o comunque le prove generali di quello che sarà il Made in Italy Made in Italy agroalimentare caratterizzato come sapete tutti da prodotti riconoscibili chiaramente riconoscibili chiaramente riconducibili alla dieta mediterranea o comunque al territorio italiano chiaramente anche caratterizzati da un grande saper fare che coniuga tradizione innovazione allora se gli anni sessanta secondo me anche leggendo e sentendo la relazione del professor Marganiolis sono gli anni in cui ha origine il Made in Italy li possiamo considerare come gli anni delle prove generali del Made in Italy e quando il professor Lacatelli diceva giustamente che sono gli anni in cui con la produzione dell'industria alimentare si afferma quella che lui chiama unificazione gastronomica sì però poi nel giro di pochi anni è vero questa unificazione gastronomica però già negli anni settanta c'è un recupero della tradizione cioè è così caratteristico dell'Italia cioè il fatto che da una parte la società di consumi significa abbandono della fame abbandono di quello che è casalingo eccetera però poi rientra immediatamente dalla finestra nei primi anni stanta cioè è questa una delle riflessioni che secondo me mi è scaturita subito ascoltando le relazioni del professor Locatelli ma anche vedendo le immagini di alcune pubblicità cioè queste pubblicità da una parte sì prodotti industriali dall'altro però c'è sempre un richiamo alla casa un richiamo alla tradizione è questa una suggestione e forse questo spiega anche perché così in maniera repentina perché passano in realtà pochi anni c'è questa riscoperta della tradizione riscoperta poiché diventa riscoperta della tipicità riscoperta di aree geografiche eccetera e che come giustamente sottolineava il professor Magagnoli resiste tuttora questa è la prima riflessione la seconda si lega ai professionisti del marketing cioè come diceva il professor Locatelli sono gli anni in cui l'industria alimentare diventa e determinate aziende diventano brand ma lo stesso vale per la Campari cioè riuscire a creare un prodotto riconoscibile al di là del gusto cioè che diventerà poi quello che sarà la Milano da bere il prodotto come stato simbolo allora da qui l'incontro con i professionisti del marketing anch'essi portatori di istanze cioè si vede chiaramente l'influenza americana i professionisti del marketing nell'innovare i prodotti ma anche il loro contributo secondo me o almeno è quello che mi sembra emerga nel creare questa immagine del Made in Italy costruzione dell'immagine del Made in Italy allora non soltanto professionisti del marketing ma anche professionisti del food design cioè un prodotto che deve diventare iconico deve diventare immediatamente riconoscibile cioè l'intervento in questa costruzione del Made in Italy di tutta una serie di professionisti dal marketing al food design ma anche a professionisti della gastronomia l'altro aspetto che emerge dalle prime relazioni è secondo me l'importanza della cultura cioè la creazione del Made in Italy del mito del Made in Italy deve tantissimo agli aspetti culturali cioè come diceva il professor Magagnoli allora se è in questi anni che si pongono le basi io le chiamerei prove generali del Made in Italy noi sappiamo benissimo che il Made in Italy si affermerà completamente negli anni 80 cioè un ventennio dopo però è in questi anni che si pongono le basi sì allora attraverso quali strategie si pongono le basi di quel successo futuro è una come dire qui gli aspetti culturali centrano tantissimo cioè non è soltanto strategie di produzione innovazioni di prodotto introduzione di tecnologie eccetera ma è anche puntare sugli aspetti culturali del Made in Italy della creazione di questo mito cioè io devo dire la la relazione del professor Catelli quando mette insieme davvero gli aspetti dell'innovazione di prodotto sì di strategie di tecnologie la tecnologia del freddo sì ma anche innovazione di un prodotto tradizionale come sono i formaggi dello stracchino all'organzola eccetera altro aspetto poi forse riguarda le aperture all'est i prodotti oltre cortina allora qui mi sembra che emerga più che altrove l'immagine di una Italia ritrata un'Italia che esporta prodotti quasi esclusivamente prodotti agricoli però come si dice anche il professor Vacchero accanto a questo ci sono altri prodotti della manifattura vale a dire le scarpe cioè prodotti della manifattura che rappresentano una sorta di testa di ponte scusate ma per la penetrazione in quei mercati allora se noi con un'operazione non sempre non pienamente corretta ma leggiamo quegli anni alla luce di ciò che la Russia diventerà 20-30 anni dopo soprattutto dopo la caduta del muro in termini di mercato di sbocco del made in Italy allora come dobbiamo leggere quegli anni è esclusivamente una questione di numeri di esportazioni di prodotti agricoli di base ma se noi andiamo a leggere che si tratta anche di prodotti manifatturieri e il professor Vacchero ha detto una cosa fondamentale cioè le scarpe diventano scarpe italiane diventano qualcosa di iconico allora già lì vediamo che il mercato dell'est non è poi così omogeneo cioè allora sarebbe interessante affiancare i dati quantitativi anche gli aspetti qualitativi cioè se ovviamente lo so che il problema sono i fonti fonti omertose eccetera ma andarsi a vedere se possibile anche proprio in relazione a quello che è la costruzione del mito del made in Italy nell'Europa dell'est e in Russia a quali segmenti del mercato quei prodotti sono diretti e se esiste questa segmentazione del mercato e se sono proprio questi prodotti appunto che fanno da testa di ponte per la penetrazione dei prodotti italiani nell'Europa dell'est e proprio perché e un'altra cosa l'ultima cosa cioè generale perché che riguarda appunto il made in Italy agroalimentare allora come è una domanda generale che vi chiedo quali strategie vengono seguite per creare già in questi anni per porre le basi del made in Italy quali perché o meglio mi riferiscono all'Unione Sovietica ma più in generale anche ai mercati europei e non solo perché l'Italia e i suoi prodotti vengono e cominciano ad essere considerati positivamente non soltanto in termini di costi ma di qualità di quello che avete detto voi cioè del bello e fatto bene come si riesce a penetrare e a inculcare anche se non è più tanto corretto ma a fare emergere questo questo rapporto prodotti da buon mercato sì ma fatti bene cioè a fare emerge il saper fare dei prodotti italiani nel campo agroalimentare ecco susate la brevità ma no no abbiamo ancora un quarto d'ora per cui siamo esattamente dentro i tempi che avevamo previsto ecco allora e quindi io raccoglierei anche qualche domanda dal pubblico prima di dare magari un rapidissimo giro di possibilità di risposte e chiudere è tutto il professor bellezza si era prenotato ecco vi chiedo tre minuti ecco una roba rapida così lasciamo magari qualcun altro prego non sentiamo sì 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 allora attivo io il tento di attivare l'audio ok attivato buongiorno allora vabbè grazie mille di queste relazioni che sono state molto interessanti mi scuso per la mia collocazione in una cucina ma mi sembra adatto all'argomento volevo dire tante cose cercherò di essere molto sintetico la prima cosa è secondo me da storico esperto dell'Europa orientale dell'Unione Sovietica mi viene da dire considerate che l'Italia non è un paese qualsiasi del blocco occidentale tutte le relazioni fra il blocco dell'est e l'Italia sono particolari all'interno quindi questo è uno dei motivi non va la Volkswagen a costruire le sue macchine in Unione Sovietica ma ci va la Fiat quindi questo lo sapete poi ho delle cose un po' più specifiche che mi verrebbero da dire che riguardano anche in parte i commenti fatti anche dalla professoressa Cantagalli cioè come mai i prodotti italiani sono di qualità in Unione Sovietica la risposta è perché i prodotti sovietici sono di pessima qualità tutti e quindi ovviamente fanno ma i prodotti che vengono portati a me venuto subito in mente non sono dei prodotti qualsiasi cioè quando ho sentito la relazione del professor Locatelli a me non stupisce il fatto che si esportasse in Unione Sovietica la carne in scatola è ovvio quello è un cibo sì magari occidentale ma tipicamente il sovietico sta esattamente all'interno dei crismi di quello che deve essere il cibo nella cultura comunista cioè facile veloce da preparare che libera la donna dalla schiavitù del lavoro in casa quindi bisogna pensare a qual è il come dire il mercato di arrivo di questi prodotti come diceva anche già la professoressa Cantagalli al fatto che quello che c'è non è un mercato libero è un mercato anzi non è mercato è distribuzione cioè io la domanda che mi veniva da fare come vengono distribuiti questi prodotti dove chi li poteva comprare una volta che arrivano pensate in Unione Sovietica questi prodotti magari venivano venduti nelle mense specifiche di alcune di alcune professioni non ovunque quello è il posto dove i sovietici che comprano bene comprano i prodotti di qualità nell'alimentare mi viene mi verrebbe da pensare e le scarpe perché tante scarpe le scarpe sovietiche fanno schifo ce ne sono poche oppure magari di quelle che fanno veramente schifo ce ne sono anche tante ma nessuno le vuole e quindi ovviamente le scarpe sono il primo prodotto che vanno quindi insomma anche quando ho sentito parlare il professor Varini per esempio dell'aperitivo dei vini cioè bisognerebbe riuscire a capire come veniva utilizzato in Unione Sovietica non c'era l'aperitivo non c'era l'happy hour in Unione Sovietica quando lo bevevano questo vino questo è importante perché sì bere champagne è classico è classico della cultura sovietica fin dagli anni 30 allora quello secondo me in questa costruzione la mia domanda è riuscita a capire come questi prodotti venivano utilizzati come venivano non venduti o distribuiti e consumati questo sarebbe importante tenendo presente che vengono da un paese che viene considerato dal blocco sovietico se non politicamente almeno culturalmente affine a quello che sta succedendo in Unione Sovietica e dopo il 91 magari le cose cambieranno ma si trasformano da questa cosa questo era quello che volevo più o meno provare a dire grazie grazie a lei c'è tempo per un altro per un'altra domanda se c'è qualcuno che vuole prenotarsi allora bisognerebbe che Giulio Argenio ridiventasse organizzatore grazie grazie eccomi c'è stato un disguido scusate se vi interrompo avrei bisogno che Andrea Maria Locatelli che è diventato non ho capito perché l'organizzatore cliccasse sull'etichetta altro a fianco al mio nome e cliccasse rendi organizzatore perché questo è un grosso problema come fai abbassano mi hai trovato io sono Giulio Argenio no no quello l'ho visto io sono disattiva se no vede la mia immagine in alto da qualche parte clicchi sui tre puntini sopra la mia sulla vicina alla mia immagine ci dovrebbe essere rendi organizzatore grazie grazie mille perfetto continuate pure con le domande scusate stavo per dire che questa è una sessione straordinariamente fortunata perché non abbiamo avuto problemi tecnici e per fortuna allora assolutamente l'immancabile problema tecnico è arrivato alla fine e quindi siamo abbastanza a posto beh ci sono ancora dieci minuti comunque per cui siete in tempo perfetto andate avanti pure io riformulo la domanda se c'è qualcuno che vuole fare una domanda rapidissima altrimenti partiamo poi con le repliche l'ultimissimo giro non vedo mani alzate spero sia perché non ci sono cose da dire per cui ricominciamo quindi io direi seguiamo l'ordine e professor Locatelli non si nasconda così pago la penalità per 90 secondi tecnologico perché credo che alle domande poste dalla professoressa Cantagalli che sono veramente interessanti non è una frase retorica sia Stefano che Valerio possano rispondere meglio sia sul problema del made in Italy che sul brand e sul marketing io ho due osservazioni velocissime la prima è nel mio caso la tradizione fino agli anni 60 è collegata all'idea del prodotto industriale come prodotto sano igienico buono dagli anni 70 questo cambia è un made in Italy diverso l'altra cosa era sottolineare che è verissima l'osservazione della cultura io lo volevo fare solo con un esempio il bel paese se andate a vedere nella forma fa riferimento ai promessi sposi ho finito Giulio mi lascio la parola agli altri perfetto ottimo quindi professor Magagnoli sì molto rapidamente grazie ad Alessandra per per i commenti e anche io credo di dovere appunto convenire largamente con quello che è stato detto mi soffermo però su due o tre perché forse sarà tempo per parlare in altre serie di tutti i temi messi sul tappeto sicuramente c'è una questione che è legata evidentemente l'hai sottolineato Alessandra di come il made in Italy a un certo punto diventi un qualche cosa che ha molto a che vedere con le concezioni burdiane di distinzione insomma cioè sia nel mercato interno ma a maggior ragione appunto anche nel mercato internazionale non solamente all'est ma comunque anche evidentemente all'est tu citavi professionisti sono assolutamente d'accordo con te qualcosa ho detto sul marketing ma tu hai aggiunto food design gastronomi io mi permetto di aggiungere anche chef nel senso che probabilmente negli anni 80 alcune figure di quelli che fino a quel momento erano cuochi ma che poi diventano improvvisamente chef quindi acquisiscono come dire su di loro una come dire un'aura professionale completamente differente un quartiero marchese tra questi evidentemente hanno sicuramente il merito di promuovere il made in Italy suscitando evidentemente desiderio di emulazione di distinzione quindi un qualche cosa c'è quella miscela che ha a che vedere evidentemente con la dimensione culturale c'è per esempio un altro caso emblematico di come per esempio Barilla riesca alla fine del secolo scorso attraverso Accademia Barilla a conquistare il mercato della pasta americano semplicemente facendo un accordo di programma con i 100 top chef americani e insegnando loro non a cuocere la pasta che sono già capaci di farlo ma semplicemente insegnando loro che quella pasta lì al pomodoro non riesce a gustarla fino in fondo se non leggi Dante e se non guardi Raffaello e non ascolti i verbi quindi c'è questa questa miscela questo ibrido evidentemente fra arti e culture eccetera eccetera un'ultimissima notazione evidentemente anche però sugli anni in cui si afferma quella cosa che io ogni tanto ho chiamato scrivendo made in history che non è solamente un richiamo alla tradizione è proprio una costruzione simbolica di un qualche cosa che ci sta dietro di mitologico assolutamente in cui assistiamo certamente è vero i prodotti italiani sono di buona qualità costano meno di altri quindi quello che diremmo oggi è un ottimo rapporto qualità prezzo ma penso che a un certo punto si assista anche a una dissociazione tra immaginario e realtà cioè la realtà esiste indubbiamente però il consumatore non la percepisce fino in fondo insomma il Nobel di 4-5 anni fa in economia è stato dato a qualcuno che ha dimostrato come l'80% degli acquisti vengono fatti come dire in modo irrazionale in modo non razionale quindi questa questa dissociazione secondo me a un certo punto andrà tenuta in considerazione se si va avanti su questa pista di ricerca non dico nulla sulla cosa che Simone bellezza ma sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto che ha poi a che vedere evidentemente con le cose che diceva Alessandra sulla segmentazione del mercato interno insomma dipende chi è che acquista dipende chi è che riesce ad acquistare determinati prodotti io ho qualcosa di piccolo non sono assolutamente un esperto di estero qualcosa sul food nella Russia contemporanea ho scritto qualche tempo fa e mi sto rendendo conto evidentemente collaborando con alcune colleghe di San Pietroburgo che appunto l'accesso a determinati prodotti di importazione è legato a determinate classi sociali non certamente a tutti insomma questo è assolutamente evidente e mi taccio ok grazie allora intanto io volevo ringraziare anche Simone Bellezza e Emanuele Bernardi per i loro commenti e le loro cose ovviamente la professoressa Cantagalli anche per la gentilezza ripeto dico soltanto una cosa ecco questi meccanismi passion pull di spinta e richiamo che sono tipici poi del di ogni discorso sul commercio internazionale negli anni della guerra fredda hanno a che fare anche con l'esistenza di un ombrello molto ampio che decide cosa è legittimo cosa non è legittimo cosa si può fare cosa non si può fare che sia di qua che di là non riguarda soltanto il mondo sovietico ma riguarda anche il mondo occidentale dentro questi meccanismi ecco secondo me va benissimo bisogna comprendere molto bene sia le condizioni di partenza che le condizioni di arrivo ovvio non possiamo fare tutto noi bisogna questo è un appello bisogna trovare qualche collega di là di quei paesi di quelle cose che si occupi più o meno di argomenti simili o sia convincibile ad affrontare questi argomenti con cui entrare in contatto questo è un appello ecco i cantieri di storia servono anche per creare relazioni chiaramente avremmo creato relazioni migliori se ci fossimo visti in presenza purtroppo dobbiamo accontentarci delle figurine ma questo è anche il nostro intento ecco partire per cercare di allargare il network sensibilizzare gli interessi e creare ricerche più condivise perché soltanto così come giustamente ha detto la professoressa Cantava Galli non soltanto comprendiamo meglio cosa succede a casa nostra ma comprendiamo anche meglio il senso del sistema generale che rende possibile quelle cose a casa nostra chiuso non ho molto da dire ringrazio per le suggestioni le idee chiaramente si sente? sì sì ok perché qui non si capisce allora chiaramente dall'Italia possiamo studiare meglio la produzione possiamo fornire qualche elemento sul consumo mi sembra che questi prodotti che arrivavano dall'Italia o da altri paesi dell'Europa occidentale penetravano nella società sovietica attraverso negozi specializzati c'era una serie di negozi che garantivano la distribuzione e attraverso qualche fotografie perché ho cercato di capire la domanda me la sono posta come poi i prodotti penetravano e fino dove penetravano rimanevano unicamente a Mosca a San Pietroburgo o penetravano nell'anima profonda dell'Unione Sovietica dove le scarpe chiaramente se ce l'avevano era una fortuna e forse ce l'avevano di scarsa qualità ma tutte le società che vogliono abbandonare la fame e su questo c'è un collegamento un legame molto stretto paesi come l'Unione Sovietica e l'Italia che vogliono lasciarsi alle spalle la fame oltre a garantirsi il cibo non so perché vogliono assicurarsi un paio di scarpe credo che sia profondamente simbolico di tutte le persone di tutte le società riuscire a mettersi un paio di scarpe decenti credo che sia una questione molto culturale vedo la me con Emanuele che sicuramente sa molto di me ma pancia piena e scarpe questo è un punto fondamentale della evoluzione della immagine del topos in qualsiasi società rurale chiaramente ma sono le 11 allora niente voglio dire soltanto una cosa che andrebbe a breve bisognerebbe indagare una figura che conosciamo molto poco il rappresentante di commercio figura anonima che nessuno conosce che nessuno studia è invece fondamentale perché l'anello di congiunzione tra la produzione e il consumo e credo che ci sia un film o un romanzo proprio sul rappresentante di commercio rivalutiamo questa figura anonima e la troviamo sempre da sola seduta a mangiare negli alberghi di mezzo mondo grazie di tutti ottimo grazie rapidamente professor Varini e mi scuso rapidamente e chiaramente le suggestioni sono tante e quando parlo anche sempre ai miei colleghi è chiaro che sulla modernità dell'Italia e sulla sua retratezza è inutile però da Milano e dalla Lombardia l'Italia è vicina alla modernità forse più di quella che è la retratezza dell'Italia nel scendere dell'Italia quindi l'Italia è in questa crocevia tra modernità e retratezza e forse proprio per questo attrae i paesi arretrati perché è un passaggio importante professionisti e marketing qui c'è anche un campo da aprire c'è un marketing italiano europeo relazionale che anticipa il marketing europeo americano e gli stessi americani in questi ultimi anni stanno recuperando tutto il marketing relazionale quindi c'è un dialogo tra i professionisti europei italiani ancora più anche perché ci sono di mezzo le tecnologie e la litografia che apre la cartellonistica la cartellonistica apre soprattutto la storia dell'arte noi storici economici abbiamo studiato poco i professionisti italiani la cultura i futuristi Boccioni con la città che sale apre a De Pero De Pero diventa il direttore commerciale della Campari quindi c'è anche una cultura modernista che apre i prodotti italiani e anche su questo andrebbero studiato mentre non lasciando solo il campo agli storici dell'arte e poi l'ultima cosa che mi interessa è che effettivamente se riflettiamo il buco della cortina di ferro è corto per alcuni paesi dura più o meno 30 anni dagli anni 50 agli anni 80 quindi c'è una continuità che è carsica ma che a viso andrebbe studiata va studiata in collaborazione con gli studiosi dell'est che ci possono dare più stimoli e più conoscenze a quanto noi siamo presenti anche negli anni carsici grazie ottimo grazie 11.02 adesso giro tutto e anche la responsabilità dei tempi a Giulio Argenio che ci dirà cosa dobbiamo fare eccoci qui bravissimi brave bravissimi a tutti perfetti non c'è niente da fare in realtà nel senso che adesso ci dovremmo prendere 10 minuti di pausa io nel frattempo preparo il panel per i prossimi interventi vi ringrazio molto per il tempismo perfetto grazie a tutti noi grazie a professoressa Cantagalli grazie davvero si è guadagnata un caffè quando ci vedremo e anche un aperitivo vieni nell'Umbria arretto e offriamo un caffè buona giornata a tutti arrivederci grazie a voi se vuole rimanere nella stanza successivamente inizia dopo torniamo Giulio grazie grazie a tutti grazie mille a tutti e a tutti voi arrivederci grazie è strano che si sia scollegato cioè che ti abbia tolto le cose guarda non ho capito cosa sia successo e sinceramente sono andato leggermente nel panico perché a quel punto tranquillo tanto non succede niente se non casca la connessione siamo sempre a fare non ti preoccupare no no a quel punto ero proprio bloccato perché non riuscivo ad attivare il microfono scrivevo in chat per fortuna appunto mi ha risposto Melinato perché se no e non riuscivo più a far parlare tra l'altro quelli che dovevano fare le domande a quel punto perché non ero più nemmeno posto io cioè proprio sono diventato proprio normale no no bene comunque se non cade la connessione stiamo sempre a posto no 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 bene bene forse è perché non lo so tu eri il primo in pista il secondo e sei comunque il creatore della riunione il secondo sì però adesso se tu sei host dovrebbe essere su di te credo credo anch'io credo anch'io non capisco vabbè buongiorno comunque il problema non si pone perché lo tengo attaccato fino alla fine no no perfetto grazie anzi appunto scusami ma sono qua che faccio il traslog in quel momento ti chiamo subito perché ciao ciao buongiorno a tutte e tutti io sto rendendo intanto co-host i i i panelist buongiorno 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 salvatore ti vedo lì non mi seguo Federico io faccio due minuti di pausa riempio riempio l'acqua posso posso lasciare a te no non hai permesso di riempire l'acqua ok legge marziale praticamente no e manca da fare cost ravveduto e guido pambini va bene quando arrivano spesso io grazie mille comunque mancano 10 minuti so Grazie. 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 Ciao, Marcello. Adesso io vi faccio... Non posso farvi co-host, perché l'host della riunione è Giulio Argenio, che adesso un attimo si è assentato. Però, insomma, quando torna vi faccio tutti i host. Cioè vi faccio fare tutti i host. Adesso me l'ha fatto attivare l'audio, sì. Ok. Sì, il problema è che abbiamo... Tu sei considerato pubblico fino a che non sei reso co-host, solo che adesso non c'è il nostro... Ci sono, ci sono, ci sono. Eccolo qua. Io non posso rendere co-host. Essendo io co-host, non posso rendere co-host. Eh... Ok. Ah, ok. Ok. Allora... Ecco. E... Anche i bambini... È andato. Ecco. Credo che con i co-host siamo a posto. E se qualcuno o qualcuna ha bisogno eventualmente di fare delle prove... Sì, due parole quelle solite che Deborah lo sa bene perché ci sta aiutando nell'organizzazione. Mi raccomando quei tempi perché siamo... Dobbiamo essere impossibili perché abbiamo tutti i tempi contingentati una dietro l'altra. Come decidete di dividervi e di utilizzare il tempo disponibile assolutamente è tutto nelle vostre mani. Se lasciare più o meno tempo per il dibattito, come volete. Eh... Però dobbiamo essere veramente inflessibili sul... sul termine. Va bene. Ne avevamo ragionato con gli altri, quindi...